Carissimi amici e carissime amiche, vi debbo dare una brutta notizia. Stanotte è scomparso, all'età di 85 anni, Enrico Weimer, un noto giornalista, nonché un noto personaggio televisivo. Enrico Weimer era amico di Maurizio Costanzo. Antonello Venditti, quando morì Enrico Berlinguerre, gli ha dedicato una canzone e questa canzone la vorrei esibire proprio ora. E canto questa canzone di Venditti in occasione della scomparsa di Enrico Weimer. Questa puntata è Ciao Enrico, proprio perché è morto Enrico Weimer. Ora musica e consigli per gli acquisti. Se siete a casa vi prego di spostare mobili, mobilette, eccetera. Ora musica. Ciao Enrico. Enrico, se tu ci fossi ancora, ci basterebbe un sorriso. Per un abbraccio di un'ora, il mondo cambia, ha scelto la bandiera. L'unica cosa che resta è l'ingiustizia più vera. Stacco. Qui tutti gridano, qui tutti siamo diversi. Ma se li senti parlare, sono da sempre gli stessi. E quante bugie, quanti segreti in fondo al mare. Pensi davvero che noi, non li vediamo affiorare? Oh no, non dimmi no. Dimmi che io, quel giorno ci sarò. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e tu ci sei. Ciao Enrico, tu sorridi accanto a me. A San Giovanni stanotte, la piazza è vuota. E quante bugie, quanti segreti in fondo al mare. Dimmi che un giorno davvero, non li vediamo affiorare. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e pensa a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Chiudo gli occhi e a te, dolce Enrico, nel mio cuore accanto a me. Grazie a tutti. Bene, signori e signori, auguro a tutti quanti voi un buon sereno pomeriggio di questo ultimo lunedì del mese di marzo. A presto ed un caro abbraccio dal vostro Mauro.